E' un posto che conosco perché l'ho frequentato in passato, perché la filosofia, la cultura, il modo di giocare le partite, l'identità, mi ha sempre affascinato e ho cercato di capire come si muovessero da lì dentro, quindi l'unico modo era venire a vedere gli allenamenti e questo poi mi è stato permesso, non era semplice, non è stato semplice, ma avevo qualche gancio. Però questo è un prodotto autoctono, un calcio che fanno solo qui, è impensabile poterlo trasportare, trapiantare perché è culturale, perché nasce dalla cultura, nasce dal modo di fare. Quindi bisogna soltanto osservarlo, ammirarlo per quanto mi riguarda, poi magari non piacerà a tutti, ma come è giusto che sia. E quindi ammirarlo, guardarlo, cercare di capire qualcosa, ma anche per esperienza personale ho cercato in passato di riproporre alcune cose, ma è più profonda l'analisi. Questa profondità nasce appunto dalla cultura del Paese. Spesso uso dire che il pallone è lo stesso per tutti, ma c'è chi lo guarda da un lato e chi lo guarda dall'altro, quindi chi ha una visione diversa rispetto all'altro, poi alla fine è sempre il pallone che c'è in mezzo. Però ci torno volentieri perché questo è un bel posto. Giocare al Gampere è un privilegio, al di là delle differenze, al di là del gap, al di là della storia, però è un privilegio poter essere qui, allenarsi qui e poter giocare contro il Barcellone. Chiude un buon periodo di preparazione, abbastanza lungo, però posso dire che in quanto a serietà, la professionalità, l'impegno, i ragazzi sono stati straordinari, hanno sempre lavorato sodo e senza mai una lamentela, pur in un periodo così lungo di preparazione. Dobbiamo far tanto per lavorare, per migliorare, per crescere, per avere un'identità precisa. Però il mio bilancio ad un mese dall'inizio del campionato, in quanto ad apprendimento, a cercare di portare in campo un'idea, una filosofia, speriamo sia giusta e positiva, perché la squadra segue, la squadra lavora, la squadra è attaccata alle cose che facciamo. Dobbiamo far fatturato, come si usa dire, nel senso dobbiamo portare a casa qualche cosa che è il frutto del lavoro fatto. Non tanto che c'è un grande attaccamento alla squadra, un grande amore per la squadra, manifestato sempre in ogni luogo dove siamo stati, c'è seguito, c'è passione e penso che questo i calciatori la sentano, questo attaccamento, ma credoci anche sano nel modo di esprimerlo. Questo mi piace, c'è molta educazione nel fare le cose, c'è amore per la squadra, ma tutto è fatto con rispetto, con educazione, quindi viene fuori l'animo vero del tifoso che è passionale e che ama la sua squadra e che vuole che la sua squadra faccia bene. Grazie. Grazie. Grazie.